Baaaaaarrrrm... Fermi tutti! No, no Sam, non farlo! E queste che diavolo sono? Signorina Lornia, signor Sam. Omar! Si può sapere che cosa succede? Dov'è il servizio d'ordine? Calmati Bello! Io sono Sam Torpedo e se voglio posso distruggere l'universo! che cosa si io ho il loop finale mi basta azionare questo manciadischi e faccio venire giù tutta la baracca pianeta galassia universo tutto quanto aspetta un momento quel disco è mio ora non più maledetto volevo distruggerlo io l'universo sarà per un'altra volta adesso tocca a me non vale non puoi è un plagio plagio è vero è plagio come plagio si è plagio lo voleva distruggere lui l'universo infatti chiederei l'intervento del detonatore automatico antiplagio e che cosa vuol dire vuol dire che ti fanno scoppiare che cosa io lo sapevo io lo sapevo anche io lo sapevio non potete farmi scoppiare sì che possiamo possono possono sì ma sì e allora e allora se devo scoppiare scoppierete tutti con me no ma che cosa dici l'altra scelta l'orna azionerò il mangiadischi scatenerò l'apocalisse se solo riuscissi a capire come cavolo funziona questo coso deve schiacciare play deve schiacciare il tasto play e qual è quello vuoi dire questo barro l'umente Grazie a tutti